Protocollo di Pavia, una nuova e più stretta collaborazione Università-Città. Il protocollo di Pavia raccoglie i risultati e le indicazioni del convegno internazionale Università e Città, un'agenda per il nuovo secolo e il protocollo costituisce la prima piattaforma nazionale per la collaborazione tra le Università e i Comuni in dieci ambiti. Il sindaco Massimo De Paoli e il rettore dell'Università, Fabio Rugge, hanno firmato l'atto di adozione e di esecuzione del protocollo di Pavia. Sì, questo protocollo contiene alcune indicazioni per le relazioni tra le Università e i governi locali. È stato adottato dalla conferenza dei rettori delle Università italiane e da Lanci, quindi ha una capacità di espansione su tutto il territorio nazionale ma noi vediamo già che sta cominciando a viaggiare all'estero proprio sotto questa denominazione di protocollo di Pavia. È importante che la città e l'Università, questa città e questa Università, diano applicazione concreta e dimostrino di essere non solo la culla di buone idee ma la culla di buone pratiche. Le iniziative sono indicate nella convenzione che abbiamo appena firmato e che ha sorpreso, ha isolato alcuni dei punti del protocollo perché noi vogliamo darci degli obiettivi realistici. C'è il richiamo alla valorizzazione museale della città e dell'Università. Molte Università sono dei tesori, dei patrimoni architettonici importanti, hanno dei musei importanti, le città storiche che hanno ospitato l'Università altrettanto e quindi la sinergia è necessaria. C'è il tema dello sport, Pavia soprattutto nell'ambito degli sport fluviali è sicuramente una capitale nazionale ma noi possiamo e vogliamo fare di più anche e soprattutto con riguardo ai disabili e così via. Ci sono alcuni punti che possono essere realizzazioni concrete che daranno al protocollo di Pavia delle gambe per viaggiare anche e diventare esemplari anche in un contesto più ampio.